Il tormento ritroverà. Agli occhi degli stolti, anche che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciamera. La loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castigli, la loro speranza resta piena di mortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici.